Abbiamo finito prima Harry Potter e il prigioniero di Axaban e come promesso siamo entrati su COD Mi raccomando farò ridere quindi sedetevi comodi e rilassatevi popicorn patatina E ci vediamo per una comic COD live Bene, iniziamo Allora, io incomincio già a ridere adesso, se c'è qualcuno che vuole ridere con me adesso mi fa un grosso favore e mi mette allegria Comunque incominciamo Comic COD live Nenè93 schiappa Bene, allora, io spero che sia la volta buona E niente, andiamo Anche Rocky sta guardando Cobra, tu stai già ridendo, per favore Facci sognare tante cazzate Dai, spara Maria Maria No che cazzo faccio Brutto Ah sfigato T'ho preso Bostazione compromessa Liberatela Nemici nel perimetro Sambor 7 Campi Sambor 7 Butto una granata flessa Guarda dove spari Prossima postazione imminente State pronti UAV alleato in zona Personale nemico alla postazione Posizione aggiornata Consistente alla postazione Aspettila di sparare Allora I've seen a globale postazione in spostamento state pronti personale nemico alla postazione il nostro UAV di disturbo è attivo UAV alleato online area bersaglio aggiornata raggiungete la postazione no 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 ce l'ho quasi ce l'ho quasi postazione compromessa liberatela nemici nel perimetro Rocky sta giù si si anche io ti voglio bene Rocky anche io stai giù però eh c'ho il cane che è in vena di coccole Rocky ma si va bene anche io ti voglio bene mi fai giocare Pippo ricerca postazione preparatevi sangue chiama sangue ha 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 postazione compromessa liberate postazione spostata consigliate area bersaglio no personale nemico alla postazione cosa cobra incredibile no 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 Ma io dico Rocky Scusate C'è un attimo il cane che mi Rocky C'è un attimo il cane che mi ha fatto Personale nemico alla postazione Attacco con postaio Sì, vicino a voi Ah, preso Porta vacca C'è un maledetto A te il missile Liberatela Aria bersaglio aggiornata Raggiungete la postazione Dai, esci Lo so che esci, eh No, non esci Torretta ostile Attiva I nemici hanno lanciato un missile cruise Approvvigionamento ostile No Ah Fantasma online Nemici nel perimetro Ricerca postazione e preparate Porca Roma Ma dai C'è, io non lo so Ero lì, quasi Ma chi Ma guarda Maledetto te Ma dove c'era? 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 Cioè stavo andando bene Cioè è arrivato te e è incominciato Ma io non lo so Un po' di educazione con le donne Un po' di educazione WAV NEMICO IN VOLO Prossima postazione in minè Restate pronti Rocky! Posizione aggiornata conquistate la postazione o avvi nemico attivo o avvi nemico in volo no ma abbiamo sconso I'm sorry Beh dai È andata bene no? Tra virgolette proprio Quanti ne ho fatti? 3 uccisioni Morti 12 Vabbè dai Niente male Eh sì cobra Piano piano Dai confronta l'altra volta Va meglio Solo che cavolo C'ho Rocky Che mi vede un po' così Che dico Che cavolo di qua Di là di su di giù E lui si agita E viene da me E io non è che posso giocare bene Con un cacolo Rocky che mi Mi salta ovunque Vabbè Uccisione confermata! Ma siamo in live? Ma dove sei uscita, maledetta te? Mi hanno colpito, non mi renda molto! Mi sono ori la tua famiglia! Ma dimmi te se al giorno d'oggi questi uomini sono tutti sgrosi! In copertura! Cioè io non lo so... Invece che a far vincere una donna... Sì! Questo mi piace! Questo mi piace! Questo mi piace! Porca mai! Cioè non ho fatto in tempo manco di prendere il coso che subito mi ha sparato! Maledetto! Adesso vedi che... Fai arrabbiare una donna! Fai arrabbiare una donna che ti prendo! Dove cazzo stai? Ma dove eri? No vabbè sto giocando... Adesso basta eh! Eh! Mi sono arrabbiata! Cobra! Cobra! Non ridere eh! Te lo dico io! Ci sono diversi nemici! Mi hanno colpito! Sì Rocky! Sì sì sì! Ti voglio bene anch'io amore! Stai tu! Stai tu! Stai tu! Stai tu! Approvvigionamento alleato in zona! Ma dove eri? Dove era sta bomba? Ma dove eri? Dove era sta bomba? Estai tu! Tu re! Dove lo ricaricare! E west? Si va! Waaah! Gliùi! Gliùiii! Daah, ma il matto! è allora ma dove stiamo lo spari e lo dico io dove li stiamo mettendo non in fuga d'altra parte adesso mi arrabbio le donne non si trattano così a casa mia questa volta abbiamo vinto ho capito mi resparo ma io sparo ma uccisioni zero morti undici vabbè io raga dopo questa vi lascio e ci vediamo domani eh mi raccomando seguitemi sempre e ci sarà sicuramente un'altra live su COD spero quindi ci vediamo domani eh seguitemi ciao ciao